Leggere strutture Hub sarà un luogo dove sentirsi a casa, un luogo magico, una piattaforma di scambio multiculturale, un luogo in cui le idee diventano arte, il posto di cui abbiamo bisogno, l'isola che c'è, anzi che ci sarà. Leggere strutture Hub sarà fatto su misura per gli artisti e fatto su misura anche per te. Unisciti al nostro sogno. Fanne parte anche tu. Contribuisci anche tu alla nostra magia. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Supportaci anche tu. Come with us! Grazie a tutti!